ciao ragazzi vi è ritrovati in questo nuovo video io sono Fabrizio e quest'oggi voglio proporvi un campionato online con assetto corsa esclusivamente per pc perché faccio un video e perché ci sono alcune cose da spiegare e prima di lanciare la macchina organizzativa ho bisogno di sapere quante persone sono realmente interessate a questo tipo di iniziativa cioè di campionato sapendo che una gara sarà fatta ogni 15 giorni che avrà una lunghezza di circa 80 100 km quindi parliamo di mezz'ora tre quarti d'ora e che sarà fatto ogni 15 giorni il giorno penso che sarà il venerdì a partire alle 21 21 e 30 ho necessità di sapere quante persone sono realmente interessate ad iscriversi per poter scegliere la configurazione del server da affittare nessun problema per il server me ne occupo io ci mancherebbe e prenderò anche un server con Mumble per poter comunicare tra di noi ovviamente quindi ho necessità di sapere quante persone sono seriamente interessate se è così non esitate a lasciarmi un commento scrivendomi Fabri sono interessato in modo tale che io possa fare un conteggio quindi ragazzi in attesa di vedere quanti siamo io lascio diciamo una decina di giorni quindi non direi questo sabato ma quello prossimo e che mi pare sia il 9 giugno prossimo cercherò di fare un conteggio in merito alle persone che sono interessate se raggiungiamo un numero minimo di almeno 10 15 persone allora lanciamo una macchina organizzativa in cui sul forum simdrivers.eu aprirò una sezione dedicata proprio per questo campionato in cui metterò tutti i dettagli le date gli orari eccetera la mod che utilizzeremo i circuiti insomma tutto quello che è per il campionato quindi ragazzi vi ricordo se siete interessati lasciate un commento qui sotto se l'iniziativa vi piace ragazzi non esitate a lasciare un pollice in su lasciate un commento se siete interessati a partecipare al campionato iscrivetevi al canale tanto è gratuito ricordate di attivare la campanellina qui sotto per essere notificati quando pubblico un nuovo video noi ci vediamo alla prossima da Fabrizio è tutto ciao